Con Armando a margine del primo allenamento del San Sebastiano versione 2022-23, allora comincerei chiedendoti con quali sensazioni si riprende, soprattutto con quali sensazioni si riprende sapendo che non sarà la categoria dello scorso anno ma ci sarà qualcosa in più da dover dare. Certo, innanzitutto buonasera a tutti. Innanzitutto partirei con il fatto che è una categoria sicuramente importante e se siamo rimasti qua è perché tutti abbiamo voglia di farla. Dopo aver vinto il campionato è ovvio che salire sarà tosta perché magari alcuni possono vederti come una squadra un po' cuscinetto, altri come una sorpresa. È ovvio che noi punteremo a fare il meglio possibile per noi e riuscire ad ottenere il miglior risultato possibile ogni domenica. Bisognerà ogni domenica andare con il coltello fra i denti, quello sicuro, ma come abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno è stato un anno di cambiamenti per tutti. Ci metteremo a disposizione del nuovo mister, quello sicuro, in primis. Staremo alle sue direttive e vedremo di portare a casa il miglior risultato. Per quanto ti riguarda sarai una delle colonne di una squadra che comunque ha cambiato parecchio, nel senso che su un totale di circa 20-25 giocatori da quel che so, facendo un po' un calcolo a spanne, circa la metà è cambiata, compreso l'allenatore, quindi una responsabilità in più in questo senso. Sì, la società mi ha dato responsabilità e mi ha dato fiducia e sono contento di questo, anche perché per me questo è il mio quarto anno, anche se tra Covid e comunque interruzioni varie, per me è il secondo che riesco a fare completo, sperando di riuscire a farlo completo. Quindi sicuramente maggiore responsabilità su di me ci sarà e sono pronto alla sfida e cercherò di dare la mano il più possibile come d'altronde lo facciamo tutti. Cercheremo appunto insieme agli altri, quelli vecchi, tra virgolette, di dare un imprinting alla squadra e di cercare di fare il risultato, non come l'anno scorso, però di riuscire a portare la squadra perlomeno a salvarsi. Poi se viene di più è meglio ancora. Grazie. Grazie a te.